Proprio questa mattina ci sarà l'autopsia sul corpo di Tiberio Giorgi, ragazzo di 22 anni, l'ultima delle vittime di questa strada, la Stata Aglio 80, che dal Cermone porta a Campotosto. Una strada che i cittadini di Arischia definiscono maledetta, così come definiscono maledetto il loro paese, che ogni anno deve ricordare almeno un morto. In questo caso una tragica fatalità, da quel che sembra. Proprio questa mattina anche gli studi infortunistici tecnici ai quali hanno fatto ricorso i familiari di Tiberio stanno facendo i rilievi e si cercherà di capire qual è la dinamica che è davvero complessa. Intanto i residenti di Arischia chiedono alle istituzioni di fare qualcosa di più perché questa strada diventi finalmente più sicura. Mancano stisce pedonali, mancano dossi, mancano segnalazioni, la Stata è poco manutenuta. Lo straccio dell'erba avviene raramente ed è una delle strade più trafficate dai motociclisti, dagli automobilisti che vanno verso Campotosto e dai ciclisti, mentre i pedoni non riescono neanche ad attraversare per paura di essere investiti. Questa è una strada maledetta veramente, ogni anno succedono sempre delle cose, adesso viene pure un po' di commozione, però la cosa principale è che non si vede niente, ci sono delle cure, bisogna prendere dei provvedimenti, almeno non so chi ha il potere di fare queste cose, perché non può essere che adesso che è successo questo fatto è tutta rischia, si stringe attorno alla famiglia. Ma l'unica cosa è che quando la via Macintoli ti metti nella Statale 80 non si vede niente le macchine che vengono da Montorio, allora bisogna prendere provvedimenti sicuramente di questa, se no ogni anno stiamo sempre a piangere la gente che muore, la gente che cade, e qua in un anno sono morte due o tre persone, anche delle moto, perché è molto pericolosa, bisogna fare qualche cosa per sistemarla sta facendo. Insomma la comunità di Arischia dice basta fare più strisce pedonali, segnalazioni, pulizia delle erbe che come vediamo alle sue spalle è ancora alta. È chiaro, la competenza dell'istituzione è questa, che bisogna pulire i frattoni, le erbe, mettere delle segnalazioni, fare qualcosa per evitare queste tragedie. Probabilmente è proprio questo il pezzo di strada discarpata che il povero ragazzo Tiberio Giorgi ha deciso di percorrere in conclusione della sua corsetta serale, come vedete abbastanza scoscesa, finisce direttamente sulla Statale 80. Penso che le istituzioni a questo punto devono prendere provvedimenti, secondo me, però se non vogliamo che si ripetano altre, sia prima che finisca l'estate e poi la prossima primavera e la prossima estate. A lasciare un messaggio di prudenza, di rispetto per chi frequenta la Statale 80 è la giovane attrice Michelle Carpente, originaria di Arischia, conduttrice insieme a Dario Vergastro a Dilla Quinta Edizioni di 6 in un Paese Meraviglioso. Il programma promosso da Autostrade per l'Italia proprio per lasciare un messaggio di prudenza sulle strade italiane. Io da romana, ovviamente quando vengo qui, scopro qualcosa di completamente diverso, cioè natura allo stato puro. E quindi facendo questa strada mi sono resa conto in realtà di quanto sia frequentata, di quanto sia anche pericolosa. e facendo un programma come appunto Sei in un Paese Meraviglioso, quello che noi cerchiamo di fare è, frequentando le strade, far vedere poi quello che è il nostro Paese. E allora vorrei veramente lasciare, mandare un messaggio di messa in sicurezza e soprattutto di pensare che la strada comunque è di tutti, quindi bisogna sempre fare molta molta attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.